Ciao a tutti ragazzi, bentornati su questo nuovo video. Oggi faremo un altro episodio sulle Pet Wars. Un'acqua che è connesso anche al Wi-Fi, se non si può fare niente. Un attimo, ragazzi dopo tanto tempo ci siamo riusciti. E andiamo. Un attimo, ci troviamo subito nel server. Ragazzi dopo molti tentativi ce l'abbiamo fatta. Ma speriamo di trovare dei server per i per giocare. E andiamo, ricarica, ecco. Collogherò un pochino. Tipo a volte si bloccherà l'umino, ma un secondo. Ah no, abbiamo un libro. Christmas. Quanto e quando ho cliccato io? Vien. Dobbiamo proprio aspettare. Oppure vediamo su nel portale. No. Vieno anche il portale. Ha tutto agghi, va male. Facciamo diretto. Vediamo ora. No. Ragazzi ci vediamo. Eccoci qua. Ce l'abbiamo fatta. Abbiamo trovato il server. No, manca no. Ci parte ci parte. E coni. E... Possiamo rifare. La mappa, credo, è la mappa, credo, è la mia seconda preferita, ma è la mia seconda preferita. Però, io però, mi piace di più quando sto solo a faule. Non con gli altri, perché è più facile da solo. Poi, per gli altri devi aspettare che loro si prendono le cose, che le prendono d'oro, di ferro. Perché tu dai, da solo lo puoi prendere quando lo vuoi e quando ce ne vuoi. Quinta, però, è proprio una mia preferita, bellissima, la mappa Winter. Speriamo che ho messo quello. Ho spinto senza manco vedere. Manca un 8 secondi. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. E no, appunto, schiamo insieme a qualcun altro. La mappa non dovrebbe essere quella. Quattro, e qua sto a letto, devo coprire tutto. Ok, voglio prendere un pochino di cose anche a me. Posso ripare il letto. Va bene, lo prende lui, quello, che arriva a me. E me sono in due, e non in quattro. Quattro, proprio, io ho tutti, quando sono in quattro. Ok, c'è la cotta bianca. Speriamo tutto il letto. Insieme a me, siamo i rossi. Ma mi farò un sacco di cose, le armature. Sicuro. Sì, non mi farò. Madonna mia, se mi chiudo da dentro, è veramente un cretino. Eh, sto facendo una bellissima copertura. Ah, sono finito i blocchi, non mi raccordo. Sì, ma però come faccio a scendere? Ecco, faccio così. E il blocco non me l'ha dato. Deve dare il blocco. Perché non me l'ha dato? A me l'ha dato un po' più. E trovo, però, almeno me l'ha dato. Io direi già di andare verso qualche parte. Facciamo, no. Poi ci facciamo delle belle cose, oltre che mo' le spalle brutte. Dopo ci facciamo delle bellissime cose. Più ferrabbiamo, più lo possiamo fare. Bellissimo. Abbiamo fatto un po' in terracosta e possiamo già andare. E ho imparato a mettere sono veramente tre di prendo un sacco di ferro me ne serve almeno tre per farmi le cose veramente spettacolare ho perso tutto ecco una tre ce la facciamo subito anzi no ce ne prendiamo venti vabbè è troppo poi facciamo le cose così con tre fammi la fare prima mi sono mi lo appaltito e ho fatto finito un flesso di un'armatura in diamante un bravento di ferro e mi mancano ancora sei di ferro e me la posso e gli posso fare una spada di come l'armatura dai dai ce ne abbiamo già tante quando ce ne abbiamo quattro quattro cinque e sei cinque e set abbiamo cinque anche se il blu ho già detto mi dà dopo i blocchi dai ne ho cinque altri due un altro dai non ho unito il bloc e quindi un altro dai 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 eccolo vediamo cinque sei forse questo qua guarda devo dare l'altro voglio intanto vorrei vedere ah si ne ho set cosa fare e sto benissimo guardate con il suo bello armatura e fada devo fare i blocchi la carne come questo qua quindi faccio i blocchi senza cadere ora se mai facciamo più velocemente sempre 40 ne prendo non capisco a me l'armatura si toglie sempre ce l'ho ok un attimo ora possiamo continuare la raccolta bianca mettiamo un altro un altro un altro credo che siano da questa parte le isole in realtà non l'ho mai capito hai visto che dopo si vede un'isola vado da quella parte più velocemente no qua vabbè io odio le gagne a pelle per andare pianissimo e non non mi prende mi ha pelle andiam andiam e vai andiamo 1 dai 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 sono muovendo un sacco credo che quando muoiono poi quando muoiono escono i fulmini dai se non ti vuole mi cadevo mi toglievo tutto quello che avevo che servono 10 di ferro in tutto di iron ok dobbiamo salire ecco è quella che se tu colpisci delle cose credo esplodono le un attimo ragazzi si 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 ragazzi le stanno uccidendo ma no si è tutto il gioco pure le avranno uccide porto mi ha lanciato sono atterrato qua su questo blocco mi sento salvito vediamo che non cado guardate la non c'è non c'è non c'è non c'è non c'è che doveva vittura bastonalla perché ho fatto così che poi non potevo sognare altre volte perché la vita al blocco dai dammelo e vabbè Grazie a tutti Grazie a tutti Ragazzi Questa partita è poco persa Sicuro Mi tolgono tutto Che cosa? Sì, è meglio Che ci vengono A rompere il letto Si riesce Non mi sta piacendo Per nulla L'ultima cosa che resta da fare E' tutta una L'ultima cosa che resta da fare E' tutta una Guarda qua E' un modulo Con le più grande Oh un nemico 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 Aiuto Nemico Nemico Ci abbiamo anche Di sotto il letto Ragazzi Credo che oggi Un'altra partita Non la farò mai Ragazzi Se il video vi è piaciuto Lasciate un piace E commento Condividete il video Su tutti i social E iscrivetevi al canale E seguitevi Tutta questa settimana Vi lascio il link Cioè Qua sopra Vi lascio L'altro L'altro L'altra Della Bad Wars Super Secondo episodio E ciao ragazzi A Cinque visualizzazioni E A Cinque No A cinque visualizzazioni E A Due mi piace Il prossimo episodio Delle Bad Wars Oppure Bastano Delle visualizzazioni Almeno Oppure Soltanto Cinque visualizzazioni E basta Io faccio L'altro Della Bad Wars Ciao ragazzi Soltanto 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 Soltanto